Non nascondono un po' di delusione perché entrambi puntavano ad un risultato migliore. I candidati sindaco di Como, Adria Bartolic, Civita, Sei Bene Comune e Fabio Leotti, come Movimento Stop Inceneritore, commentano i dati e guardano il ballottaggio senza dare indicazioni. O meglio, Leotti spiega che sono ancora in corso le valutazioni, mentre Bartolic aggiunge che lascerà libertà di scelta. Quest'ultima, con 1095 voti, si è fermata al 3,66%, con 72 sezioni scrutinate su 74. Il risultato non è quello che ci aspettavamo, avevamo riscontri diversi, ha ammesso, l'astensionismo ha penalizzato e su questo tutti devono fare un ragionamento. Sono comunque dell'idea che occorre fare una verifica a tutela di tutti, di problemi lo abbiamo visto, ce ne sono stati tanti ai seggi. E sul ballottaggio spiega, noi uniamo due liste civiche che raccolgono diverse sensibilità, quindi non daremo indicazioni di voto e lasceremo libertà di coscienza ai nostri elettori. Nel canto suo, Leotti commenta, pensavamo ad un risultato migliore, abbiamo pagato la partenza e il ritardo della campagna elettorale, ci siamo presentati all'ultimo e il tempo è stato poco, chiarisce, aggiungendo di non sentirsi penalizzato dalla mancanza del simbolo dei 5 stelle e ribadendo che il partito che ha davvero vinto è stato quello dell'astensione. Infine, una riflessione inevitabile sul ballottaggio, intanto attendiamo la conferma ufficiale, siamo una lista civica progressista, più vicina ai valori della sinistra, ma con Minghetti è noto, non abbiamo trovato delle convergenze su temi per noi importanti come il secondo lotto della tangenziale e quello della privatizzazione degli asili nido. Le valutazioni, conclude, sono in corso.